Siamo la società partecipata dell'ex provincia di Caltanissetta, noi eravamo alla manutenzione delle scuole e delle strade e adesso ci ritroviamo in una situazione economica disastrosa. Sono cinque mesi che non prendiamo lo stipendio, risolvevamo un sacco di problemi e adesso siamo noi il problema per l'amministrazione che per la regione. Abbiamo avuto promesse da parte dei politici che la cosa si sta per sistemare e mi auguro che la situazione si risolve il più presto possibile. Chiediamo un intervento da parte della regione per sistemare la situazione economica pur di arrivare almeno fino a giugno-settembre quando si formeranno i consorsi che hanno promesso di fare. Soltanto questo, perché ci serve solo una mano d'aiuto. Una mano d'aiuto economica, poi. Noi siamo così da maggio 2015. Abbiamo lavorato fino a dicembre con le somme urgenze. Ci hanno fatto fare le somme urgenze fino a dicembre, a 16 dicembre. E' da 16 dicembre che siamo fermi, totale, senza fare un giorno di lavoro. Oggi siamo qui solo per dimostrare all'amministrazione che ci siamo ancora, siamo ancora vivi e siamo ancora presenti nel nostro territorio. Ci stiamo solo dimostrando questo, sperando che non ci dimenticano nel dimenticatoio. La segretaria generale è partita per Palermo per poter discutere di questa situazione nostra o con l'onorevole Miciche o chi per lui non si sa. E poi vedere al rientro di poter avere delle notizie. Si presume che molto probabilmente lunedì dovremmo avere l'incontro con il commissario e la segretaria generale per avere le notizie concrete su questa situazione. Si spera che lunedì dovremmo averlo, ancora non si sa. Comunque, tra lunedì e martedì dovremmo avere questo incontro. Noi siamo qua da oggi, da ieri, oggi, tutto il giorno saremo qua. Molto probabilmente faremo anche l'oltranza, anche in questi giorni saremo qua. Siamo per esplonare l'opinione pubblica sulle nostre condizioni. Siamo qui fino a che possiamo resistere, dopodiché poi vediamo.